L'escalation dei prezzi colpisce duro frutta e verdura e le allontana dalle tavole degli italiani. È quanto emerge da un'analisi di Coldiretti Lazio che ha evidenziato un calo degli acquisti dell'8% nel 2022. Sì, costa un po' di più ma è intanto tutto aumentato, tutto, tutto. Una sensazione confermata anche dai commercianti. I prezzi sono aumentati perché comunque il gas, c'è stato il problema di quella guerra, quindi il gas è aumentato e il diesel è aumentato tantissimo perché tutta la frutta e la verdura viaggia su gomma. Secondo i dati Ismea Mercati, in un solo mese il prezzo delle mele Golden è cresciuto del 2,7%, i carciofi sono aumentati del 23,9%, i peperoni sono l'ortaggio di aver subito il maggiore aumento con l'80,9%. I costi di produzione sono cresciuti del 42% anche a causa del cambiamento climatico che sta decimando i raccolti. Il 13% delle aziende agricole sono a rischio chiusura, è una situazione davvero molto molto preoccupante. Frutta e verdura sono colpite anche dalla concorrenza sleale delle produzioni straniere. Un prodotto su 5 è importato e non rispetta le norme a tutela della salute e dell'ambiente. Quello che noi stiamo facendo nel Lazio è una campagna di educazione nelle scuole contro lo spreco di cibo.